Egoist! 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 E' pazza! Buona Natte! Buona Natte! Salite sopra! Bravissimi! E ballate tutti! Sicuramente, guarda! Soprattutto Giorgio! Stavamo aspettando questo momento! Stavamo aspettando questo momento! Stavamo aspettando questa ossessione, dal ritornello! Perché ne so io quale è il ritornello! Vado, eh! Uno, due... Alessa è in piazza seconda! Vai! Alessia, Marcucci, questa sera è veramente un grande spolvero! Voglio vedere quante di voi si ricordano la pubblicità di Egoist! Io sì, perché sono abbastanza vecchia! Spero no, anche voi!